E quindi cosa ho imparato? La prima cosa che ho imparato è che la vita è un gioco, è un grande gioco. E le regole sono semplici. Una è la legge universale, è l'amore. È l'amore che muove tutte le cose. Uno è lo stato naturale dell'essere, quindi in cui ci dobbiamo arrivare a trovare. La gioia, la gioia quieta. A me piace dire a tinte pastello. Una è la via per fare questo, la verità. La verità intesa come autenticità consapevole, cioè riuscire a vivere pienamente se stessi privi dai condizionamenti.